La città, la pizza, la gente che è calorosa Il mio idolo è Ronaldinho Stanno andando bene, stiamo lavorando tanto e siamo contenti, grazie Il mio cibo preferito è ovviamente la pizza, grazie Le mie preferite sono Margherita e Capricciosa Mi dà molta motivazione perché è stata portata da giocatori importanti La mia esperienza è stata bellissima e impressionante e speriamo andiamo ancora a Euro Grazie a tutti per le domande, ci vediamo presto, Forza Napoli sempre, ciao